Il premio Rita Levi Montalcini 2018 è stato assegnato a Veronica De Rosa, ricercatore del CNR di Napoli, per i suoi studi innovativi sul sistema immunitario e il metabolismo. La sua ricerca aiuterà a comprendere sempre più da vicino i meccanismi intracellulari che sottostanno alla sclerosi multipla. Il premio Rita Levi Montalcini è stato istituito nel 1999 come importante riconoscimento al contributo dei giovani ricercatori di eccellenza nello studio della malattia. Io mi occupo dello studio del sistema immunitario che è l'alterazione di base che poi causa la sclerosi multipla, quindi il nostro sistema immunitario riconosce alcuni costituenti del nostro sistema nervoso centrale danneggiandoli e intervenire a livello del sistema immunitario significa curare la malattia proprio a monte, cioè prima ancora che il danno avvenga. Ovviamente questo deve essere coordinato con una diagnosi tempestiva affinché la distruzione non prosegua nell'individuo e insieme poi con una medicina rigenerativa anche con le cellule staminali si può pensare di agire appunto tutti insieme per l'arresto della distruzione da un lato, quindi intervenendo sul sistema immunitario e sulla rigenerazione dall'altro. I ricercatori oggi hanno la possibilità, e questo è fondamentale, ma soprattutto hanno la volontà, i giovani ricercatori, di lavorare in maniera molto diversa rispetto al passato. Quello che colpisce chi ha seguito per anni la ricerca scientifica è essere passati da quel livello di individualista, cioè del ricercatore che parla della sua ricerca e quasi non la vuole rivelare a nessuno, ai ricercatori che lavorano, discutono e fanno il possibile perché non ci sia il risultato di uno, ma ci sia il risultato di tanti, il risultato di tutti e forse un domani dovremmo avere non il premio Nobel al ricercatore, ma il premio Nobel ai gruppi di ricercatori che lavorano insieme e che fanno un lavoro fondamentale per le persone, per la comunità. Nel cinquantesimo di AISM il premio Rita Levi Montalcini va ad una donna, va ad una donna del sud, Veronica De Rosa, da persona con SM, da presidente internazionale e da donna del sud, sono proprio orgogliosa che questo premio quest'anno sia andata ad una donna e ad una donna del sud.